come sei bello senza tutte le mamme sognerebbero un bimbo sapete veramente come sei tutte le mamme di quanti giorni c'è a treno? no a nonna no come fa che mi sono tutti i maschi buongiorno è venuto a sistemarti è venuto apposta a sistemarti lui si è pettinato si è fatto la riga in mezzo lei ha preso la spiomuta però mi ha andato a me perché non aveva coraggio di chiedela e te credi che ti devo dire c'era un'altra qui dietro ma sentiremo solo il respiro e non mi inquadrami meno che coglioni ma come no? pesa memore di una bellissima mostra fotografia che tra l'altro abbiamo fatto a troviamo questo azzurro a me fa invece queste parole memore è un po' come quando Volpi dice glaceale a me mi c'è la Volpi con il glaceale e cazzo guarda di glaceale perché c'è tutta questa gente questa mani? eh perché c'è tanta iniziativa iniziativa di ottobre quindi quando questo finisce l'estate si risvegliano gli elpani nelle passioni nelle loro emozioni e quindi cosa? madonna che fu se voi come? se avete pazzo? no, le donne non ci hanno allora cosa facciamo? cosa rifacciamo? cosa rifacciamo? cosa rifacciamo? no, che sono dell'altro? bene il 16 ottobre l'altro anno direi che è stato un successo quest'anno spero di più e siamo soliti, Massimo che ci aiuta, Antonio, Antonio è in mezzo fra Massimo e il sindaco che non è venuto e subirà una penna corporale di venti frustate e... e niente... e... quest'anno c'è questa ragazza? va bene? c'è fermata col che? datevi una mano quest'anno ci sarà una novità va bene c'è con noi un altro gruppo che si chiama Diversamente Sani queste due mie amiche è fantastico, vero? meraviglioso e ora poi vi spiegheranno loro in cosa consiste questo gruppo noi siamo felici di farle conoscere eh certo, non vorrei vedere perché è una cosa importantissima e chi riguarda, riguarda riguardo prego prego no, non fa, parla Cristina parla Cristina vediamo di essere brevi e questo gruppo è nato... eh, se parti così ci fanno le 10 ah sì? ci siamo brevi allora... chi è la quello di chi? siamo concisi chi l'avevo chiamato? ah, sì, la bella chi era? Marta e ora, ricordo sarò breve, sì mi chiamiamo ai polso, un braccio allora questo gruppo è nato praticamente nel reparto quarto piano di oncologia e purtroppo noi siamo accomunati nella malattia che è stato il tumore e avendo avuto questa malattia ci siamo, le nostre strade si sono incrociate e ci siamo rese conto che qui sull'Elba eh, mancano, non voglio chiamare servizi ma mancano degli aiuti concreti cioè il nostro scopo è quello di aiutarci e fra di noi aiutare chi sta passando adesso quello che noi abbiamo passato prima con dei suggerimenti pratici posso fare un esempio basilare siamo, per dire ci cadono le sopracciglia, ci cadono i capelli abbiamo bisogno di un parrucchiere a cui appoggiarci per ordinare le parrucchie abbiamo bisogno magari di un centro estetico che ci dia un aiuto a rimanere diciamo, per rimanere nel quotidiano nella più normalità esatto, bravissimo ma anche consigli pratici del tipo per la domanda di invalidità, di rendibilità al lavoro tutte queste cose che noi abbiamo passato perché all'inizio, parliamo chiaramente, c'è una grandissima confusione perché quando ti dicono che hai un problema ti salta al mondo, ti casca al mondo al dorso tutto il resto passa insieme al piano ed è vero, è normale, è fisiologico così ma in realtà poi c'è tutto un seguito da fare che è importantissimo e noi vediamo questo aspetto dal lato di vista del paziente perché i medici sono bravissimi specialmente lui però fanno il loro però hanno la visione dal punto di vista medico invece noi subentrano sentimenti subentrano le collaborazioni ora siamo riusciti ad avere insieme all'associazione cure palliativa Isola d'Elba siamo riusciti ad avere anche lo psicologo se che facciamo la terapia come in America sai, ti metti in cerchio ti presenti e lì che parli se vuoi parlare ascolti se vuoi ascoltare ed è un bel passo avanti e poi stiamo lavorando su tante collaborazioni con alcuni enti chiamiamoli così e uno di questi noi ringraziamo appunto Gisella perché tramite Edi e ciao Chi è Edi? non vuole parlare però la possiamo riprendere sicuramente ora mi vado a fare un selfie mi bacia mi baci sempre quando non c'è una telecamera accesa e ora noi iniziamo vogliamo farci conoscere per far capire quello che vogliamo fare abbiamo fatto scusate anche una pagina Facebook che è in fase di investimento che si chiama Diversamente San Isola d'Elba a breve faremo proprio il nostro sito faremo un sacco di cosettine su cui stiamo lavorando siamo partiti adesso e grazie a Gisella e all'Avis si che ha contattato appunto Edi saremo con loro per il memorial Cori Umberto il Cori Umberto il 16 e saremo lì e così spiegheremo meglio quali sono le nostre intenzioni quali sono i nostri obiettivi e sono tanti veramente tanti e abbiamo bisogno dell'aiuto di tutti l'aiuto anche in tempo perché in dedizione capito esatto tempo materiale da spendere su questo lavoro e ogni consiglio e tutto è sempre ben accetto io sul concreto è stato molto molto breve ha detto devo imparare da lei io parlo con lei devo parlare prima perché non lo guardo io assunta lei assunta la nostra assunta l'assunta è un mare di che anni d'oro Massimo vi parlerà poi del percorso si Massimo di qualcosa c'è Massimo noi io Antonio Arighi che non è qui presente ma lo è col pensiero sicuramente ci occuperemo sempre è vivo eh cosa c'è pensiero è brutto è lì Antonio ci occuperemo come lo scorso anno del percorso che non cambieremo perché l'anno scorso è piaciuto quindi faremo in modo che di portare i concorrenti a vedere i posti più belli questo versante dell'Epa quindi le spiagge di terra nera di barbarossa poi gli faremo salire il bocchetto una passeggiata a reale molto bella ha avuto più persone a me sì sì essendo il sindaco di reale ormai da anni si si occuperà del ristoro è bello il cacello è sempre spancato basta mi fate lavorare se c'è da mangiare bene devi arrostire le salsicce no quello trovo qualcuno non fa fatica anche quello quindi niente il percorso rimarrà quello ci occuperemo di controllare in questi giorni se è tutto a posto allora inizia alle ci ritrovo dammo le notizie non abbiamo ancora manifesti ma insomma a breve ci saranno anche quelli ci sarà la cosa dei bambini eh quest'anno in più alla corsa e alla passeggiata ci sarà l'atletica dei bambini di Portoferraio quindi saremo saremo in tanti e niente ricordiamo Umberto logicamente quest'anno sono nove anni che ci manca che ci manca sì sì e ricordiamo anche Armida e Mario che sono sempre presenti in in tutte le associazioni loro sicuramente quando sapranno della vostra della vostra associazione vi daranno sicuramente una mano c'è da chiamare questo c'è da chiamare il sindaco questo cristiano regina passa un po' qua passiamo il sindaco sì ci vuole un viva voce perché la cassa la scarica com'è la trasformata perfetta un tanto entusiasmato secondo me no no ve la sto gustando con cavolo sono aranci di patte portata da stizie poi infatti il valore aggiunto è stato proprio quello è stato proprio quello proprio clonate la carta di credito si sente? bellezza di si dici buongiorno simoni buongiorno e dico l'Elbana Shav ah eeeh 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 o che pensavi che eravamo eeeh con queste voci dolci e l'ha accolto buongiorno Gisella buongiorno 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 grazie voi il mare è agitato il mare no il mare è calmissimo è una tavola un sacco di gente fuori con la barca a pescare quindi eeeh va va che bene cos'è un viaggio istituzionale? sì bene bene mi raccomando fatti organizziamoci bene perchè è un appuntamento importante per il paese eeeh eeeh e vogliamo che diventi sempre più importante poi magari ci rivediamo più avanti prima che quando siamo un pochino più a ridosso della data decisa sì ci vuoi dire qualcosa Luca? no ma sei in viaggio istituzionale sei? sì sono sono in viaggio istituzionale sì andiamo abbiamo problemi con con il con il con il dissalatore ci sono i cioè con chi dissalatore? oggi siamo tutti a piombino per per discutere quindi buon lavoro allora saluta anche c'è anche edi e cristina le le ragazze dell'associazione vedi? bene bene ciao edi ciao Cristina le vedrai ciao ciao a prestissimo eh grazie Luca grazie perché ridi? per tutti quelli che hanno dato vita è stato un piacere alla manifestazione so che è stata raccolta una cifra molto importante bene bene e mi fa davvero piacere siete stati eccezionali fantastici grazie caro ma molto volentieri quando c'è queste cose lo sai come ho detto prima non mi chiamare per lavorare finché c'è da accantare è un piacere per me lavorare no citto 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 c'è un topo da una parte bisognerà che gli chiami c'è un topo maschio però grazie va bene ciao Luca grazie ciao ciao oh intanto buongiorno c'è la gente che ci sta scrivendo meravigliosi saluta saluta Federica Ferinici eccezionale grande iniziativa esperienza diretta tu dovrebbero vedere perfetto quindi loro torneranno vero? ci rifageranno la colazione questi giorni torniamo a ridosso della manifestazione tanto per le iscrizioni eventualmente due o due no per l'iscrizione è la mattina è la mattina la mattina facciamo 9-9 e mezza come lo scorso anno poi la gara inizia? quando dovrebbe iniziare? alle 9-9 e mezza la mattina iscrizioni se di sotto dove? magliette e partenza se di sotto dove? da Luca Schumay sfera di essere presente nella manifestazione eh quindi Tauricini in giacca e cravatta di una bellezza dove sei? spropositata mamma proprio da queste andiamo a aprire il conto quando pensate a Regini pensate a uno brutto così a uno bello così no pensate che devo andare ad un amore quando sono così perché sono in veste istituzionale io sto pensando oggi di spingere tutti andammene in campagna fate un po' voi una cosa importante anche il Piammatrice il progetto giovane sulla l'elba si regalerà 13 o 14 box sai dentro c'è una tuta giacchettini di allenamento perettini di lana insomma completini ci manderanno a Luca Simoni ci vede se hai ricordato che c'ha un telefonino ho chiesto lì quindi tesoro tesoro grazie tesoro grazie grazie a te grazie a voi Regini niente non accoglieremo non accoglieremo nessuno tranne i turisti ragazzi dove vieni siamo spacciati i turisti ieri su Rai 3 è stata bella lo speciale che hanno fatto su Italia Nelli effettivamente effettivamente questa donna non può essere sparita in questa maniera quindi hanno ipotizzato anche il discorso dell'omicidio stradale e poi e poi abbandonata da qualche parte è perchè a questo punto dice che ha visto tutti i sentieri palmo palmo e comunque si queste sono le tre eh poi mi darò un po' di fare che ho detto io perché troppo mi mancia grave e nello stesso tempo chi l'ha visto chi l'ha visto si sono organizzati quindi a Sant'Ilario stanno continuando in queste cose è certo sono spesi le riprese le riprese c'è una notizia nuova eh sanità la cingella l'attacco senza un progetto ci eravamo accorti? no no c'era passata è stata commentata su twitter da me e Luca lunedì hanno detto adesso faranno un tavolo di concertazione un altro tavolo di concertazione quindi si metteranno al tavolino un fiasco di vino due calzate c'è Ikea che si mette io li chiamo ribotte però noi non li chiamano un tavolo di concerto li chiamano ribotte stanno tutti l'anni parte sto tavolo si andiamo al giugno smontano il tavolo e lo rimontano che dobbiamo fare? oh che cazzo te ne frega inverno arriva Natale tanto quando è giugno se ne dimenticano si lascia stare e poi a giugno c'è l'estate arriva la gente se ne dimenticano si lascia stare poi a giugno c'è l'estate arriva la gente se ne dimenticano se ne scordano ma la gente muore ma che cazzo e devono lavorare anche marano, pugno e così no lascia stare la regione oh allora partono anche i monitoraggi la cia o tavolo di concertazione o monitoraggi cioè non si interviene mai o si discute o si controlla si da un monitoraggio guardiamo un po' com'è poi si interviene prima si deve controllare bene olio la regione sui parassiti monitoraggio costante cioè si guardano sti parassiti che si divorono l'olivo e dice poi quando è divorato dice c'è una soluzione c'è una soluzione non c'è più l'olivo nuovo l'olivo nuovo l'olivo nuovo ora fra due o tre giorni c'è le navi quest'anno non può più perché l'altra volta era poca hanno portato più gente poi che notizie c'è però il servizio fito sanitario esclude allarme meteo esclude esclude la presenza dell'axilella ma chi? la zittella in Toscana all'elba ma chi? c'è il servizio fito sanitario ha detto si ma l'axilella eh non c'è all'elba eh secondo noi non c'è eh meno male ora te la portano non hanno dato la luce mi raccomando non la portate l'axilella chiama Renzo Galli che lo fa entrare a tutti ma lo fa come l'axilella eh a meno quella fate entrare tutti meno che l'axilella niente Barbetti ha risposto no no ah c'è il referendum quindi c'è l'incontro per il sì e il referendum che è il comitato per il no eh così pensiamo a queste cose non pensiamo ai problemi alle cose seri alle cose Italia si Italia no Italia Paese dei cacchi grazie, arrivederci ciao grazie a voi facciamo passanti il nostro dovere istituzionale del giorno eh siamo in un po'